Benvenuti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare una nuova iniziativa, un nuovo corso, dopo l'esperienza fatta almeno finora e tuttora in corso, scusate il gioco di parole, del di nuovo corso sulle Screen Bash, che mi sembra finora abbia avuto una ricezione discreta da parte vostra e quindi prendendo coraggio appunto da questa prima esperienza, mi sono buttato a preparare, a pianificare questo nuovo corso, che spero possa incontrare anch'esso il vostro interesse. Dunque, il titolo corso sulle banche dati, quindi parliamo di banche dati con le quali, grazie alle quali, possiamo descrivere ed archiviare la realtà, quindi la realtà che ci circonda può essere descritta e archiviata nelle nostre banche dati per poi andare a leggere questi dati e a farne ciò che vogliamo. Impareremo un po' tutto questo, le basi, insomma, di gestione delle banche dati. Come lo impareremo? Un po' sulla falsariga del corso precedente, sugli Screen Bash, nel quale abbiamo accumulato nelle varie lezioni delle conoscenze per poi giungere a creare uno script finale più composito, anche qui ci diamo un obiettivo, e cioè quello di costruire una piccola banca dati per archiviare i dati necessari a qualcuno che dà assistenza sui PC, ovvero il tema è questo, no? Cioè una persona o una piccola ditta che dà assistenza sui PC, la gente può chiamarli quando hanno problemi per intervenire sui loro PC che non funzionano più correttamente, ed ecco che questo qualcuno necessita di una banca dati per tenere traccia dei suoi interventi, delle persone alle quali ha dato l'assistenza, eccetera, eccetera, per fatturare o puramente per suo archivio personale per vedere come va la sua attività. Ecco, questo è il tema che ci siamo dati, che ho deciso di dare come base, come filo conduttore di questo corso sulle banche dati. Ecco, naturalmente una vera banca dati effettiva, operativa, necessaria, o una piccola azienda di questo tipo, anche una persona singola che gestisce attività di questo tipo, richiede una banca dati non proprio piccolina, insomma, farla proprio completa sarebbe un bel lavoro. Noi, per scopi didattici, ci limitiamo ad implementare una piccola parte dei dati necessari, insomma, perché poi, appunto, didatticamente è sufficiente imparare i principi di gestione e di creazione delle banche dati, non necessariamente dobbiamo creare chissà che mostro di banca dati, ci bastano poche tabelle per capire i principi e vedrete che sarà più che sufficiente. Ecco, quindi semplifichiamo parecchio, eh, l'attività di qualcuno che d'assistenza dei PC in realtà non sarà descritta tutta come potrebbe esserlo veramente nella realtà, ci limitiamo a una piccola area che però, appunto, sarà sufficiente a spiegare tutti i principi fondamentali necessari a chiunque abbia bisogno di costruirsi una banca dati per qualsiasi cosa. Ecco, dico per qualsiasi perché ovviamente la gestione degli interventi di assistenza sui PC è un tema che ho scelto io così, arbitrariamente la prima cosa che mi è venuta in mente, ma le banche dati servono, come ho detto nel titolo, a descrivere la nostra realtà, quindi può servire per qualsiasi argomento che voi aviate bisogno, che sia poi, che ne so, la vostra collezione classica di francobolli, le ricette, collezioni di DVD, avete un'associazione, siete segretario o presidente di un'associazione, volete gestire la vostra associazione, vale benissimo gestirla con una banca dati, perché no, una squadra di calcio, di pallavolo, qualsiasi cosa. E quindi prendete appunto il tema assistenza PC, non come qualcosa di legato al mondo informatico dei PC, ma è proprio un tema a caso, avrei potuto scegliere benissimo la squadra di calcio di turno, ecco, quindi non è una cosa, è casuale diciamo il fatto che si parli anche nella banca dati di PC, non necessariamente un tema legato a banca dati, deve essere una cosa tecnica, può essere qualsiasi cosa della nostra realtà quotidiana, che abbiamo bisogno o vogliamo archiviare in una banca dati. Ecco, quindi il scopo del corso è chiaro, impariamo a descrivere la realtà ed archiviarla mediante attributi suddivisi in tabelle, quindi impareremo cosa vuol dire descrivere la realtà, cosa vuol dire determinare gli attributi necessari a descrivere questa realtà, e ordinare, organizzare questi attributi in uno più tabelle. Ecco, gli attributi sono un po' le caratteristiche della realtà, ecco, noi descriveremo appunto la realtà che ci circonda mediante alcuni attributi, più o meno in quantità di attributi a seconda di quanto vogliamo andare in dettaglio a descrivere la realtà nella banca dati. Noi ovviamente adotteremo una via di mezzo semplificata, sia il numero di tabelle, come ho già detto all'inizio del video, sia il numero di attributi all'interno di queste tabelle, per descrivere la realtà, perché se andiamo troppo in dettaglio appunto non finiamo più, poi ognuno, una volta che conosce le basi, può andare quanto vuole in dettaglio, quello dipende da quanto serve a lui avere archiviato in banca dati. Ecco, quale banca dati, con cosa lavoreremo in questo corso? Ecco, naturalmente nel nostro mondo open source abbiamo a disposizione una magnifica suite d'ufficio che si chiama LibreOffice e vedete qui sullo sfondo del video di oggi che ho messo appunto una pagina del sito di LibreOffice ed è la pagina proprio relativa allo strumento che andremo ad usare in questo corso, che si chiama base, base, base però in inglese, che è il finale di database, quindi tradotto in italiano sarebbe base, database tradotto in italiano e base di dati, base dati, base e base. Ecco, ho messo come sfondo per essere in tema questa pagina che parla appunto delle caratteristiche del modulo base, che fa parte appunto della suite LibreOffice per l'ufficio. Il modulo base, dunque, perché il modulo base? Perché il nostro canale YouTube, ovvero il mio canale YouTube, dal quale siete iscritti oppure dal quale seguite i video che io pubblico, è un canale dichiaratamente alla portata di tutti, ovvero non per specialisti o non necessariamente specialisti e quindi non andremo a complicarci troppo la vita installando magari una banca dati di quelle, chissà, professionali, più note, a parte sul nostro sistema per poi utilizzarla con base, ma sfruttiamo la banca dati che è integrata in base, perché LibreOffice base è il modulo che ci permette di creare banche dati anche esterne, quindi anche una banca dati qualsiasi, basta che abbia una connessione valida e noi possiamo gestire qualsiasi banca dati con base, però base stesso, senza aver installato nulla, ha integrato un tipo di banca dati che è proprio questa, si chiama HSQLDB, qui c'è il link con la descrizione di che cos'è questa banca dati, ve li lascio come sempre in descrizione, ovviamente tutti i link e tutto, anzi, essendo un corso questo, così non mi dimentico di dirvelo, già come per il corso Bash, tutto quello che vedete qui, anche questa scaletta che sto seguendo adesso, ve la metterò in un archivio compresso che potete scaricarvi dal commento di questo primo video, già come ho fatto col corso sugli script Bash, nel primo video della serie del corso vi metto il link per scaricarvi tutto il materiale del corso, quindi avrete un archivio compresso con tutto, questo testo, questi link, tutto, tutto quanto, quindi avrete tutto a disposizione. Ecco, allora torniamo alla descrizione del corso, dunque dicevo base ha integrato questa banca dati, che è una banca dati che non ha nulla da invidiare, intendiamoci alle altre banca dati, diciamo, l'unico neo, tra virgolette, è che è stata integrata in LibreOffice Base, proprio se vogliamo accedervi, leggerla ed usarla, dobbiamo usare per forza un file di tipo LibreOffice Base, quindi è tutto integrato, dati, banca dati, le finestre, le schermate per gestire i dati, è tutto integrato in un file base. Questo, parlo di neo perché nel mondo professionale, diciamo, solitamente la banca artista da una parte, gli applicativi che gestiscono e che accedono ai dati stanno da un'altra parte, qui abbiamo tutto in un file, ma per il nostro uso personale, o di scambio, che so, a fare parenti, amici, colleghi ristretti, è più che sufficiente, più che dignitoso come uso, anche se tutto sta in un file, anzi a volte può essere pratico e basta consegnare, prendere questo file, metterlo su una chiavetta o mandarlo via mail a chi abbiamo bisogno e quello che lo riceve ha già tutto, basta che abbia installato LibreOffice e può accedere all'applicazione, banca dati e i dati. Quindi, diciamo che è un po' una medaglia, come sempre, con le due facce, è la sua comodità avere tutto integrato, anche se dal punto di vista del professionista è probabilmente un neo questo, non è proprio una situazione ideale. Però a noi interessa poco, a noi in questo corso interessa imparare i principi di creazione di banca dati, di gestione di banca dati, di lettura delle banche dati, e quindi va benissimo questa banca dati integrata in BASE. Bisogna anche dire, per onestà di cronaca, che BASE è il modulo, o almeno la sensazione che ho è un po' questa, è il modulo di LibreOffice che non è il più curato e il più spinto nello sviluppo, almeno finora. Bisogna dire che ogni volta che esce una versione di LibreOffice si vedono molte più modifiche cambiamenti aggiunte negli altri moduli, come Calc, corrispondente di Excel, Write, corrispondente di Word, di Microsoft, e Impress, corrispondente di PowerPoint, per ovvie ragioni, secondo me, di concorrenza con Microsoft Office. Quindi si punta, diciamo, ai moduli di punta, ecco, le punti di diamante di Microsoft Office, si punta a contrastare questo predominio con questi tre moduli. Diciamo che LibreOffice BASE dovrebbe fare un po' il verso di Access, di Microsoft Access, quando vedrete l'uso di questo modulo, chi usa Access o ha già usato Access, troverà delle similitudini, ma certamente non è paragonabile ad Access oggi come oggi, o non ancora paragonabile, proprio perché BASE non è sviluppato la stessa velocità degli altri moduli, finora, poi magari, chissà, verrà riattivato magari lo sviluppo più in là, con un'altra velocità. Comunque, fa il suo lavoro egregiamente, intendiamoci, non è che non funziona bene, è che solo così, guardando il change log, ovvero il giornale dei cambiamenti, solitamente BASE ha poche righe o quasi nulla, mentre gli altri moduli ne ha molto di più, ecco, tutto lì. Dunque, un paio di note importanti, prima di vedere magari la scaletta del corso, poi per questo video diciamo che è tutto. Nota importante 1, i dati presenti nell'esempio, ecco, come vi ho detto, nella descrizione di questo video, trovate il link per scaricarvi l'archivio compresso con tutti i documenti relativi a questo corso, testi come questo compresi, e naturalmente la banca dati che creiamo per il corso, che abbiamo creato durante il corso, che abbiamo visto e analizzato durante il corso. Ecco, questa banca dati contiene dei dati. E allora io per evitare così qualsiasi legame con la realtà di persone o qualsiasi cosa che possa, che so, creare qualche problema, anche involontario di privacy, un legame con la realtà, cose reali o persone, ho inventato veramente tutto. Quindi anche i nomi, i cognomi usati sono di personaggi storici o della fantasia, che ne so, dei fumetti, ho proprio preso volutamente cose completamente inventate, che sono dichiaratamente inventate, si capisce subito che sono persone anche storiche, quindi diciamo morte da un pezzo, oppure proprio della fantasia. Ecco, ho voluto proprio staccarmi completamente dalla realtà con i dati in quanto tali, per evitare appunto ogni problema di legame con la realtà. Nota importante 2, questo è un po' forse meno importante della prima, perché con i dati bisogna sempre fare una certa attenzione a gestire i dati, per la privacy delle persone, e quindi quella sì con la nota importante. Questa, vabbè, durante il corso creeremo dei formulari per gestire i dati, o per leggerli, o per stampare, per fare degli elenchi, ecco. E naturalmente questi oggetti hanno un loro stile, un'impostazione grafica, che io ho, per non perdere troppo tempo, diciamo pure la verità, perché il mio tempo a disposizione non è mai tantissimo, e quindi sono andato un po' per le spicce, ecco, sono un po' rudimentali, non ho curato molto l'impostazione grafica, ecco. Sicuramente si può facilmente fare meglio rispetto ai formulari che vedrete durante il corso. Questo ve lo anticipo proprio per evitare che magari nei commenti possiate dirmi, ma guarda, ma che schifo quel modulo lì, o quella stampa lì, potevi farla meglio perché non l'hai curata, ecco, è una questione di tempo un po'. Perché sicuramente chi ha già avuto modo di fare questo tipo di lavoro sa benissimo che creare, che ne so, una stampa, ci vuol poco ad impostare i dati che ci vanno sulla stampa, ci vuole tantissimo a a creare la grafica giusta, elegante, allineata, tutto a posto per la stampa. Cioè, vuol molto più tempo a creare l'impostazione grafica della stampa che non il contenuto della stampa stessa. Ecco, io ho, per me l'importante era il contenuto della stampa e non tanto l'eleganza grafica, perché appunto è un compromesso che ho adottato per non impiegare una vita a presentarvi il corso che poi è la sostanza che conta. Ecco, l'aspetto grafico e l'estetica lo lascio a voi. Voilà, nota importante 2 passata. Allora, la scaletta del corso sarà questa, diciamo, leggermente più corto del corso sugli script bash, questa è suddiviso in 12 parti. E ho cercato, per quanto possibile, anche se non è mai facile in queste materie che è abbastanza complesse, se vogliamo da spiegare, ecco, non è mai facile creare una progressione nei corsi, neanche con gli script bash è stato facile, però ho cercato anche qui di man mano parte per parte di crescere, cioè di aggiungere conoscenze partendo dalla base man mano fino ad arrivare alla fine del corso, ecco, possibilmente. Quindi avremo un prossimo video dove presentiamo il modulo base genericamente, così in quanto tale, il nostro strumento principale di lavoro, quindi presenteremo nel prossimo corso, poi partiremo con la base, ovviamente ogni banca dati come base a uno più tabelle e quindi parleremo della tabella, poi parleremo anche del perché organizziamo i dati in più tabelle, parleremo dei vincoli, delle relazioni fra una tabella e l'altra, parleremo delle query o interrogazioni, quindi una volta spiegato dove e come archiviare i dati, dobbiamo anche essere capaci e di leggerli i dati perché è inutile archiviare informazioni se poi non possiamo sfruttarle, quindi impareremo a crearci delle interrogazioni per leggere i dati, impareremo cos'è una vista, cioè una visione alternativa dei dati, impareremo ad usare delle funzioni per leggere i dati in modo diverso, con valore aggiunto, impareremo ad esportare ed importare i dati della nostra banca dati perché una volta che abbiamo archiviato i dati nel nostro file base non sono morti lì, ma possiamo accederci, estrapolarli, portarli fuori per esempio in calc e farne un altro uso, impareremo a crearci un formulario per gestire i nostri dati comodamente, quindi non direttamente nelle tabelle, ma più confortevolmente con un formulario anche graficamente più carino da gestire, impareremo a crearci un rapporto per la stampa, un report, come si dice in inglese, e infine, così come appendice, non indispensabile, ma come valore aggiunto del corso, impareremo anche a crearci una macro per un menu a pulsanti con il quale possiamo richiamare altre parti grafiche del modulo base che ci siamo creati, e voilà, ecco, qui ho messo come sempre qualche link utile di approfondimento come la guida per LibreOffice, come la guida per la banca dati, che ho detto che non ha nulla da invidiare alle banche dati professionali, ha le stesse caratteristiche e potenzialità, soltanto che è integrata in LibreOffice, e quindi avete la guida con tutte le caratteristiche di questa banca dati, se avete bisogno, e avete anche una pagina che parla del linguaggio SQL, che è una sigla che sta per il linguaggio con il quale si interroga la banca dati, quindi vedremo man mano nelle varie lezioni di cosa si tratta tutto ciò, non stiamo ad approfondire adesso naturalmente, e voilà, per questa presentazione del corso direi che mi sono dilungato fin troppo, con questo quindi chiudo questa prima parte e vi attendo, spero, almeno di ritrovarvi alla seconda parte, per adesso un saluto, ciao ciao!